La bella notizia arriva da Raffaele Di Gennaro che oggi è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra a distanza di quasi tre mesi e mezzo dall'infortunio alla clavicola. 31 ottobre scorso Pescara Olbia 1-0 decise con la partita Drudi, una partita molto sofferta, una vittoria molto sofferta per il Pescara nel finale il brutto infortunio patito da Di Gennaro che si è completamente ristabilito, da oggi completamente recuperato e dunque sarà a disposizione comunque nelle prossime settimane. Il tecnico Biancazzurro Gaetano Auteri assente Memushai differenziato per Chiarella, Memushai per un problema alla camiglia e tornato in gruppo anche Derisio che sarà a disposizione di Auteri lunedì prossimo a Reggio Emilia. Lunedì 14 febbraio, ore 21, attesissimo posticipo del turno di campionato, il big match del prossimo turno. Reggiana vicecapolista, lo ricordiamo, con 56 punti a meno due dal Modena, più 14 sul Delfino e unica squadra imbattuta nel girone B. Naturalmente servirà l'impresa per espugnare il MAPEI Stadium, il Pescara va a caccia, lo ricordiamo, del decimo risultato utile consecutivo. Negli ultimi nove incontri i biancazzurri hanno conquistato sei vittorie e tre pareggi, una striscia positiva che mancava dalla stagione 2015-2016, anno della promozione in Serie A con Massimo Oddo. In panchina gli emiliani saranno privi del difensore Rozzo, difensore centrale di struttura Rozzo, tra l'altro molto esperto, e del regista Fausto Rossi. Entrambi sono stati squalificati rispettivamente per una giornata il difensore e per tre il regista Emiliano. Ed ora parliamo del Teramo, calcio mercato, perché il club bianco-rosso è a caccia di un difensore. E' stato contattato Simone Jacoponi, classe 1987, 35 anni ancora da compiere, ex Parma, attualmente svincolato. Domani il difensore nato a Pontenera, dunque il difensore toscano, 90 presenza in A con il club ducale, darà una risposta. Ultima partita di Jacoponi il 7 marzo dello scorso anno, Fiorentina-Parma 3-3, quindi un infortunio al ginocchio, dal quale si è ristabilito. In questa stagione sono due panchine in B nel Parma. Il difensore, lo ricordiamo, è assistito da Alberto Faccini dopo il grave infortunio del crociato corso a Bellucci. Stagione finita è la squalifica di Codro Maz per la trasferta di Viterbo. In programma domenica prossima Guidi avrà a disposizione soltanto tre centrali, Pinto Soprano e il giovane Furlan.